Musica Abbiamo bisogno di una chiesa che parli fluentemente il linguaggio della carità, le parole del Papa in Ungheria, ieri il monito all'Europa, nessuno è nemico per sempre. Presentato a Barletta il programma delle celebrazioni e delle iniziative previste per il mese di maggio, momento dell'anno dedicato a Maria. A Molfetta alvia i festeggiamenti in onore della Madonna del Tremolizzo, compatrona della città che proprio Maria salvò l'11 maggio del 1560 da un terribile terremoto. Seconda tappa per la Scuola di Politica 2023, promossa dal Forum di Formazione all'impegno sociale e politico della Diocesi di Andria, tema la cultura della corruzione. La famiglia Liso dedica un'aula didattica a Edoardo Pilastro dell'Azienda Agricola di Casa. Ben ritrovati, edizione aggiornata del nostro notiziario. Abbiamo bisogno di una chiesa che parli fluentemente il linguaggio della carità. Arriva a dirlo, è stato Papa Francesco incontrando questa mattina i poveri e i rifugiati nella chiesa di Sant'Elisabetta d'Ungheria a Budapest. Ascoltiamo le sue parole. Il linguaggio della carità è stata la lingua parlata da Santa Elisabetta, verso la quale questo popolo note grande devozione e affetto. Arrivando stamani ho visto nella piazza la sua statua con il bassamento che la raffrigura, mentre riceve il cordone dell'ordine francescano e contemporaneamente dona l'acqua per dissetare un povero. E' una bella immagine quella della fede. Chi si lega a Dio come fece San Francesco dell'Assisi, a cui Elisabetta si è ispirata, si apre alla carità verso il povero. Perché se uno dice io amo a Dio e odia il suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Santa Elisabetta, figlia di Re, era cresciuta nell'algiatezza di una vita di corte, in un ambiente lusoso, privilegiato. Eppure, toccata e trasformata dall'incontro con Cristo, ben presto sentì un rigetto verso le ricchezze e le vanità del mondo, avvertendo il desiderio di sfogliarsi e di prendersi cura di chi ne ha bisogno. Così non solo spesse i suoi avevi, ma anche la sua vita, a favore degli ultimi, dei lebrosi, dei malati, fino a curarli personalmente e a portarli sulle proprie spalle. Ecco il linguaggio della carità. Questa è la testimonianza che ci è richiesta, la compassione verso tutti, specialmente verso coloro che sono segnati dalla povertà, dalla malattia e dal dolore. Compassione, che vuol dire patire con. Abbiamo bisogno di una Chiesa che parli fluentemente il linguaggio della carità, l'idioma universale che tutti ascoltano e comprendono. Anche più lontani, anche coloro che non credono. Nessuno è nemico per sempre. È stato questo il monito che il Pontefice ha lanciato ieri all'Europa nel primo giorno del viaggio in Ungheria. Ascoltiamo. L'Europa, memoria dell'umanità e degli orrori della storia, deve ritrovare la propria anima e opporre ai fatti della guerra la consapevolezza di avere un ruolo decisivo nella ricerca di una via diplomatica alla pace. È il messaggio chiaro lanciato da Papa Francesco, atterrato ieri in Ungheria, al centro dell'Europa e a 300 chilometri dal confine ucraino. Per lui la sfida è unire chi è distante e non lasciare nessuno per sempre nemico. Cita, per l'occasione, uno dei padri fondatori dell'Unione, Adenauer, con l'obiettivo di invocare sforzi di pace e non nomina mai la Russia, pensando invece alla martoriata ucraina. Appena arrivato, Bergoglio ha due colloqui privati con la presidente della Repubblica Novac e con il premier Orban. In questo momento, più che mai, la Santa Sede teme conseguenze inimmaginabili. Per questo il Pontefice si rivolge alle autorità e osserva che la grande speranza rappresentata nel dopoguerra da Europa e ONU sembra solo un bel ricordo del passato, così come la multilateralità. Pare di assistere al triste tramonto del sogno corale di pace, sottolinea, mentre si fanno spazio i solisti della guerra e tornano a ruggire i nazionalismi. Francesco dice di pensare a un'Europa che non sia preda di populismi autoreferenziali e non si trasformi in un sovranazionalismo astratto che via nefasta delle colonizzazioni ideologiche. I valori cristiani, conclude, non siano testimoniati con rigidità e chiusure. Presentato a Barletta il programma delle celebrazioni e delle iniziative previste per il mese di maggio, momento dell'anno dedicato, come sappiamo, a Maria. Vediamo. Per Barletta, maggio è un mese intenso dal punto di vista della fede, un periodo dell'anno dedicato alla protettrice della città, la Madonna dello Sterpeto. Ravvivare la fede del popolo è l'obiettivo del mese mariano in cui quest'anno si concentrano diversi momenti di preghiera e riflessione. Come annunciato durante una conferenza stampa organizzata dall'Arcidiocesi di Trani, Barletta e Bisceglie, ogni giorno ci saranno otto sante messe. Poi, ogni giovedì sera, l'Arcivescovo, Monsignor Leonardo d'Ascenzo, terrà in cattedrale una catechesi. Ancora all'8 maggio, solennità della Madonna dello Sterpeto, si celebrerà il pontificale che sarà presieduto dall'Arcivescovo. E si ricorderà anche il 14esimo anniversario della proclamazione della Civitas Marie, legame di fede ma anche civile e culturale. Domenica 28 maggio, invece, ricorrerà il 62esimo anniversario dell'incoronazione, il 31, infine la chiusura e il ricordo del 291esimo anniversario da quando la Madonna dello Sterpeto è stata proclamata patrona di Barletta. Maria richiama la testimonianza della fede in coloro che parteciperanno, in questo itinerario di 31 giorni, qui in cattedrale, alla celebrazione dei sacramenti, in modo particolare dell'Eucarestia e anche al sacramento della riconciliazione. Ecco che Maria ci richiama a ritornare al Signore. Questa è la testimonianza. Anche nell'icona noi abbiamo la Madonna che stringe il bambino Gesù, quasi a presentarcelo. E questo vuole essere il significato sintetico del Mese Mariano, un itinerario che ci rimette in comunione col Signore Gesù. Tema delle celebrazioni, Maria, madre e modello della Chiesa Sinodale, in cammino, in ascolto e in dialogo. Con il nostro arcivescovo Leonardo a livello di Occesano stiamo camminando, mettendoci tutti quanti in ascolto e in dialogo. E su questo Maria è davvero madre e modello, è donna di comunione, di partecipazione con il suo eccomi e di missione visitando Santa Elisabetta. Ma per Barletta, il Mese Mariano è anche il momento per annunciare la festa patronale. Dico già fin d'ora che a metà maggio saremo già in grado come comitato di poter comunicare quelle che sono le iniziative che in comunione con il capitolo e con l'amministrazione comunale vorremmo fare per la festa patronale di quest'anno. E cominceremo quest'anno, dopo anni, a una raccolta porta a porta, semplice, e così tutti potranno partecipare secondo le loro possibilità. Presentato ieri a Molfetta il programma degli eventi del Mese Mariano e dei festeggiamenti in onore della Madonna cosiddetta del Tremolizzo, compatrona della città, che proprio Maria salvò l'11 maggio del 1560 da un terribile terremoto. Il servizio è di Marilena Farinola. Maggio è comunemente il mese dedicato al culto della Vergine Maria. A Molfetta è tutto pronto per dare inizio ai festeggiamenti della Madonna del Tremolizzo, in cui la storica icona della madre col bimbo, conservata nella Basilica della Madonna dei Martiri, viene onorata per celebrare il ricordo dell'11 maggio del 1560, nel quale la città fu scampata da un rovinoso terremoto che colpì la Puglia. Si narra nelle cronache del tempo che il popolo si riversò impaurito per le strade della città di Molfetta, in quell'occasione invocò la protezione della Madonna e proprio alle prime luci dell'alba dell'11 maggio giunse qui in pellegrinaggio presso il santuario per rendere grazie alla Madonna appunto per aver salvato la città di Molfetta da questa catastrofe. Il popolo fu accompagnato dal vescovo di allora e quindi questo evento si ripete nel tempo e ancora oggi il popolo ringrazia la Vergine Santissima per aver salvato la città di Molfetta da questa catastrofe. Anche quest'anno Molfetta intende omaggiare la sua compatrona rinnovando la devozione e la gratitudine del popolo, stilando un programma ricco di appuntamenti per onorare la Madonna miracolosa. La Madonna d'Utremlitz abbiamo organizzato che la porteremo dalla Basilica alla Cattedrale, ma quest'anno con il permesso dei frati e dei preti si fermerà per un giorno alla chiesa di Capuccini. Il giorno dopo sarà riportata in Cattedrale. L'undici in corteola riporteremo alla Basilica. Abbiamo messo in piedi un concorso che coinvolgerà tutti i bambini di scuola elementare dall'età di 5 a 11 anni, un concorso di disegno. I bambini si potranno cimentare con la tecnica monocromatica usando colori a matita dove potranno disegnare quello che è per loro il valore della tenerezza e della protezione che la Vergine Maria dà su tutti noi molfettesi. Seconda tappa per la Scuola di Politica 2023 promossa dal forum di formazione all'impegno sociale e politico della Diocesi di Andria. Tema la cultura della corruzione. A parlarne uno dei massimi esperti, Alberto Vannucci, ordinario di scienza politica presso l'Università di Pisa e autore di una vasta letteratura sul tema, Francesco Rossi. Noi siamo abituati a collegare e associare i fatti corruttivi a violazioni del codice penale che sicuramente ci sono, sono rilevanti, vanno perseguite, però dobbiamo in qualche modo cominciare a cogliere la dimensione in cui i fenomeni corruttivi si manifestano. C'è un brodo culturale all'interno del quale questi fenomeni tendono ad attivarsi e noi sappiamo che purtroppo l'Italia manifesta degli elementi di vulnerabilità rispetto a una certa, chiamiamola, arrendevolezza diffusa a queste pratiche. Però quella che è, come dire, una constatazione che può portare amarezza deve diventare anche un elemento di speranza e di riscatto. La cultura del favore che poi diventa la cultura del privilegio di pochi è la negazione dei diritti di tutti. Io credo che ci sia una sola strategia per, in qualche modo, ribaltare questa visione che poi porta alla rendevolezza, che porta alla diffusione della cultura della corruzione e quella di far, come dire, comprendere, è l'importanza della conoscenza. Quando noi riusciamo a leggere, a capire, a comprendere le ragioni profonde per cui una cultura della corruzione è una cultura che porta al disastro collettivo, nella ricerca di tanti di cercare il privilegio finisce che il privilegio sia zero per tutti e rimangono soltanto, come direi, i poteri occulti, rimangono soltanto gli sprechi, c'è tutto il lascito negativo della corruzione. Quello che disturba, preoccupa e fa pensare non è che ci sia la corruzione, perché quella, direi, c'è sempre stata in un modo o nell'altro, ma quello che più preoccupa è che la corruzione è un modo di pensare, è cultura, per cui c'è la cultura della legalità che deve fronteggiare non la corruzione, ma la cultura della corruzione, che è molto difficile da stanare, da individuare, da identificare e quindi è un discorso molto molto importante. Io sono venuto ad ascoltare con grande interesse questa sera perché la cosa ci interessa a tutti, noi tutti adulti che abbiamo in un modo o nell'altro dei ruoli educativi abbiamo bisogno di essere aiutati a capire. Si chiama Medusa il progetto nell'ambito del quale è stata firmata l'alleanza strategica per lo sviluppo del turismo d'avventura in Puglia. Damiana Dorotea Sgramella. Rafforzare le competenze e lo scambio di esperienze tra gli stakeholders della Puglia, varcando i confini regionali attraverso lo sviluppo del turismo d'avventura. Sono questi gli obiettivi dell'alleanza strategica firmata tra il Dipartimento Regionale Turismo e Cultura e i parchi e le aree marine protette pugliesi a supporto della crescita di questo importante segmento turistico. Il protocollo di intesa nell'ambito del progetto di cooperazione territoriale europea Medusa è finanziato dal programma Interreg Eni-CBC-Med. Sono cinque le aree pilota pugliesi coinvolte il Parco Nazionale del Gargano, quello dell'Altamurgia, la Riserva Naturale Area Marina Protetta di Torre Guaceto, il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, quello regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e il Bosco di Tricase. Con la sottoscrizione del protocollo i componenti del Comitato di Gestione del Turismo d'Avventura si impegnano a contribuire allo sviluppo di questo specifico settore nelle proprie aree di riferimento mettendo a disposizione risorse umane, know-how, accesso all'informazione, promozione e pubblicità anche tramite incontri mensili rivolti alla consulta degli operatori. Il turismo di avventure è animato da esperienze intrise di emozione e adrenalina dal trekking al bird watching dall'arrampicata al paracadutismo sportivo sono molteplici le attività che consentono di esplorare il vasto patrimonio naturale pugliese. inoltre quello d'Avventura è un segmento di turismo sostenibile sportivo e all'aria aperta in continua e rapida crescita in tutto il mondo. La famiglia Liso dedica un'aula didattica a Edoardo Pilastro e dell'azienda agricola di casa. Vediamo. Un sostegno alle attività dell'azienda agricola di famiglia ma soprattutto persona amabile stimata e apprezzata anche da compagni di scuola e amici di vecchia data così viene ricordato Edoardo Liso andriese scomparso pochi mesi fa a cui i familiari hanno dedicato un'aula didattica l'obiettivo è celebrarlo in uno degli spazi in cui operava con dedizione e impegno luogo che da oggi si apre ad una vocazione culturale gastronomica e turistica. a noi io personalmente che vivevo con lui quotidianamente mi lascia la mancanza di tutto delle piccolissime cose come chiunque lascia a chi sopravvive ma la presenza di tante persone che lo hanno voluto bene corrobora in noi quello che abbiamo fatto ci ha dato tanto e credo che meriti tutta l'attenzione che abbiamo voluto rivorgergli dedicandogli intestandogli questa piccola struttura aziendale quest'aula questa piccola struttura di cui lei ci parlava che cosa sarà e in quale contesto si inserisce? intanto del contesto dell'olio turismo che oggi va tanto che è anche stato oggetto di una legge di una legge nazionale di un decreto attuativo regionale ma è un'aula che si apre sia alle esperienze gastronomiche in senso più lato e anche culturale combinazione che riteniamo sia un nostro stile aziendale e di famiglia ma anche una combinazione molto prolifica per l'attrazione del turista dell'escursionista di colui che vuole apprezzare le cose buone a partire dall'olio ma non fermandoci all'olio di origine cerimonia cerimonia di premiazione presso il ministero dell'agricoltura a Roma della 29esima edizione del premio Biol il concorso per il miglior olio extravergine d'oliva biologico del mondo svoltosi il 9 e 10 marzo scorsi a Bari vediamo come è andata cerimonia di premiazione a Roma al ministero dell'agricoltura per l'edizione 2023 del premio Biol il concorso internazionale dedicato ai migliori extravergini d'oliva da agricoltura biologica del mondo tenutosi a Bari lo scorso marzo istituito dal consorso italiano per il biologico nel 1996 il prestigioso premio è organizzato in collaborazione con Biol Italia con i patrocini del ministero dell'agricoltura dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia della camera di commercio e del comune di Bari premio Biol è il più importante il primo concorso internazionale al mondo per il miglior olio extravergine di oliva e quindi è importante perché si compete con i produttori di tutto il mondo ma più che si compete si coopera con loro si condivide con loro la stessa passione per ottenere un prodotto di eccellente qualità e il premio Biol è il modo migliore per testimoniarlo grazie alla presenza di una giuria di oltre 48 assaggiatori professionali anche questi provenienti da tutto il mondo quindi la miglior patente che possiamo dare all'olio extravergine di oliva per circolare ed essere apprezzato da tutto il mondo a essere premiati i tre migliori oli evo biologici sui 400 in gara provenienti da tutto il mondo sul gradino più alto del podio il Viola Bio dell'azienda agraria Viola di Foligno secondo posto per il Meles Meles Blend dell'azienda Meles Meles Apicoltura società agricola semplice di Negra di Valpolicella e terzo per il Mate Viola Tonda dell'azienda croata Orna Do la Puglia si è distinta con tre eccellenze vincitrici del Biol Puglia entrate nella top 10 generale si tratta dell'olio Mimì Peranzana dell'azienda agricola Donato Conserva di Modugno dell'Allegretti Coratina Bio della Demar di Montalbano e del Monocultivar Coratina delle Società Agricole Torre Rivera di Andria E' molto complicato dire qual è il segreto perché fondamentalmente non ci sono segreti è un po' una domanda che mi fanno spesso come imprenditore il segreto è essere molto molto precisi e puntuali nella gestione sia cronomica che la iotecnica della produzione di olio Nella stessa sede è stata presentata anche l'ultima edizione della Guida Mondiale dei Migliori Extravergini Bio 2023 Era l'ultima notizia si chiude anche questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito buon proseguimento con i programmi di Teledeon Grazie a tutti